L'idea è quella proprio di dotare gli operatori sanitari, quindi credo soltanto gli infermieri in questo caso, di dispositivi speciali e specifici che possano lanciare un allarme o comunque difendere un pochino meglio gli operatori. Partiamo dai dati, Presidente. Quante sono queste aggressioni? Allora, in cinque anni l'INAIL, la sovrintendenza, ha stimato 12.000 casi ogni cinque anni, quindi significa 2.000 casi all'anno e significa un caso ogni quattro ore. Quindi è un problema molto reale, molto da gestire e questa gestione va fatta sicuramente con la legge. La legge 113 del 2020 darà sicuramente delle risoluzioni perché l'inasprimento delle pene sono una delle tante soluzioni da mettere in atto. L'altra soluzione è la formazione al personale per riuscire a creare tutte delle tecniche di descalation, sia psicologiche che fisiche, per poter allontanare l'aggressore. E invece un'ultima strategia, un ultimo punto da mettere all'ordine del giorno è proprio la tecnologia a supporto di questo problema, delle aggressioni. Quindi delle telecamere proprio da mettere addosso agli operatori? Sostanzialmente è l'utilizzo della tecnologia. Una delle tante soluzioni sono delle bodycam da mettere, come viene utilizzato anche nelle forze armate dell'ordine, una telecamera da mettere proprio addosso. Oppure addirittura in alcuni casi, chiaramente le tante aziende che si stanno adoperando su questo problema stanno utilizzando anche dei smartwatch che possono tranquillamente dare il segnale in caso di aggressione. Quanto siamo lontani dall'applicazione concreta? Non tantissimo lontani. Devo dire che giovedì 16 siamo stati al Senato della Repubblica con l'onorevole Marinello, il senatore Marinello, che è stato uno dei promotori della legge 113 del 2020 e che ora si sta facendo promotore di questo problema portando avanti quello che è il progetto della tecnologia a supporto del personale.